Ciao, sono William Visacchi di blog Visacchi.it e oggi risponderò a una domanda che spesso si pone che deve acquistare nuovi infissi in PVC. Ma il PVC è cancerogeno? Il PVC è tossico? Prima di rispondere a queste domande però vorrei parlare un attimo del materiale. Che cos'è il PVC? Il PVC è un polimero di origine sintetica che è costruito attraverso il cloro e l'etilene e un'aggiunta di stabilizzanti chimici. Detto ancora più pane e salame è sale e petrolio. Detto questo ci sono alcune aziende che scrivono nel loro Deplia che il PVC è un materiale naturale. Ora a me viene da sorridere perché se guardo fuori negli alberi o scalavo un buco sottoterra io di PVC non ne ho mai trovato. Ma ad esempio sarebbe come dire la benzina è un prodotto naturale. Probabilmente la ESO, la Monticelle e le compagnie petrolifere lo scriveranno anche nel loro Deplia. Non lo so, però mi sembra una forzatura molto molto grande. Come materiale è un materiale che ha poca resistenza meccanica e anche poca resistenza alle sollecitazioni termiche quindi al calore. È un materiale che non è facilissimo da riciclare perché praticamente tutti gli stabilizzanti che vengono messi all'interno hanno delle formulazioni chimiche diverse l'uno dall'altro e questo rende il processo più difficile e anche un processo meno conveniente rispetto ad altri materiali perché comunque il PVC costa poco di base ma le aziende europee sono costrette a utilizzare almeno il 20-30% di prodotto riciclato. Vedi all'interno questo PVC che ha un colore diverso e quel colore diverso è dovuto appunto da un PVC realizzato in maniera un po' peggio di quello che era originale, viene messo all'interno perché non si vede e l'azienda è costretta ad utilizzarlo nella formulazione di nuovo PVC. La domanda principale però è il PVC è cancerogeno? Ci sono tantissime ricerche che dicono che il PVC è altamente cancerogeno. Ce ne sono tante altre che dicono che il PVC è assolutamente naturale. Il problema è che quest'ultime spesso sono finanziate dalle stesse aziende che producono la miscela di PVC. Ora non voglio farti l'elenco delle ricerche, se vuoi vai su wikipedia.it che è la fonte più autorevole che abbiamo sul web ed è anche gratuita e ti avviso però che ti potrei prendere abbastanza paura. Quello che voglio fare durante questo video è farti fare dei ragionamenti oggettivi e logici. Il primo punto su cui deve ragionare è ma già il fatto che ci poniamo questa domanda dovrebbe far pensare ad esempio su una finestra in legno nessuno si chiederà mai se è cancerogena o non è cancerogena. Il secondo punto su cui deve ragionare è perché si sta facendo tutta questa guerra alla plastica? Tutti i paesi del mondo stanno lottando contro l'inquinamento derivante dalla plastica e non solo. Un motivo ci sarà. Un terzo ragionamento è che cosa stanno facendo in altri settori. Ad esempio l'Apple che produce telefoni ha eliminato il PVC dai propri telefoni almeno dall'iPhone 4. Era ancora vivo Steve Jobs quando faceva la presentazione e si vantava che nel suo telefono non era presente PVC, arsenico, mercurio ed altre sostanze pericolose. Un altro punto su cui puoi ragionare è esistono altre aziende come la Nike, come Ikea, come la Kiko che fa i giochi per i bambini che hanno aderito a un protocollo per cercare di eliminare il PVC dai loro prodotti. Trovi l'elenco completo nell'articolo nei commenti di questo video. Un'altra affermazione che gira molto riguardo al PVC è che il PVC è stato mandito in Germania. Ora voglio dire, la Germania è probabilmente il primo produttore mondiale di PVC. È mai possibile che bandiscono il PVC? Certo che non è possibile, ma quando c'è un'affermazione spesso c'è qualcosa di vero. Nel caso del PVC bandito in Germania è questo, che praticamente il PVC di una volta conteneva elementi altamente nocidi come ad esempio il piombo e il cadmio e la Germania aveva bandito i PVC che contenevano questi materiali. Ad oggi questi materiali, almeno nella comunità europea, dovrebbero essere stati eliminati in tutti i seramenti in PVC, ma ti invito a controllare che non siano presenti. Se hai degli infissi vecchi o più probabilmente delle tapparelle vecchie che contengono piombo, ti consiglio caldamente di andarle a sostituire. L'altra domanda che ci eravamo posti all'inizio è se il PVC è tossico. Parliamo di tossicità nel momento in cui il PVC viene riscaldato, ad esempio, delle fiamme durante un incendio. Tutti diranno che il PVC è ignifugo. Sì, è vero, il PVC è un materiale ignifugo, ma questo non ha nulla a che vedere con la tossicità, perché ignifugo significa che il materiale non funge da combustibile, quindi non alimenta la fiamma. Se io gli metto una fiamma vicina, lui brucia, se tolgo la fiamma smette di bruciare. Ma quando metto la fiamma vicino al PVC, come durante il caso di un incendio, il PVC produce un fumo molto nero e molto denso che rende molto difficile riuscire a uscire da quella stanza, oltre ad essere potenzialmente molto pericoloso per la salute. Poi è un caso limite, è vero, ma se ho solamente la finestra come via di fuga, magari di fuori ci sono i pompieri o c'è un balcone, c'è un modo per poter uscire, il punto di fusione così basso del PVC non mi consenterà nemmeno di aprire la finestra, perché la finestra sarà letteralmente squagliata. Altro discorso sulla tossicità è durante la produzione. Durante la produzione può essere molto pericoloso sia per chi lo lavora, sia per le famiglie che abitano attorno a quella fabbrica. Su questo punto, purtroppo, voglio fare una precisazione. Tutti gli altri materiali, parliamo di vetro, parliamo di aluminium, parliamo di acciaio, parliamo di combustibili, di energia, tutti quelli che lavorano in quelle fabbriche o che abitano, le loro famiglie abitano lì attorno, io non vorrei essere in loro panni. Conclusione di questo video. Ora, quando sono in ballo poteri forti, interessi economici così elevati, l'indotto del PVC da lavorare a decine di migliaia di persone, non so quanti miliardi di euro di fatturato che genera questa industria, la verità non verrà mai a galla al 100%, o perlomeno non verrà a galla in tempi brevi, magari tra 100 anni. Quindi, che cosa puoi fare tu oggi? Oggi puoi fare questa scelta qui. Se sei comunque determinato ad acquistare infisso in PVC, assicurati che abbiano dei certificati VOC, ovvero dei certificati che attestino l'assenza di sostanze pericolose e accertati che non contengono piombo e cadmio. Su questo punto, mi raccomando, è una cosa molto molto importante. Detto questo, continua a seguire i nostri video www.blogvisacchi.it Trovi tutte le nostre guide, ti saluto, ciao e al prossimo video. www.blogvisacchi.it